Allora, passiamo alla parte via future, siamo un po' in ritardo, ma penso che nessuno si voglia perdere, se è ancora connesso, speriamo di sì, Simone Severini, connesso da Seattle, direttore del progetto Quantum Computing di Amazon, di AWS. Io chiederei alla regia di metterlo in connessione. Simone, ci sei? Audio? Sì, ci sono, buona serata. Ciao Simone, ciao Simone, Simone qui, il ciao da tutti noi, grazie per essere stato in attesa così tanto, sappiamo che i tuoi impegni sono importanti e notevoli, però penso che come un talento di cui noi siamo orgogliosi a livello nazionale, oggi è implicato in uno dei progetti più importanti, in uno dei leader più importanti in questo momento dell'IT, nessuno meglio di noi ci possa raccontare, meglio di te ci possa raccontare cos'è il Quantum Computing e quali impatti potrà avere, quindi lascia a te la parola e grazie ancora. Ok, vedete il mio schermo? Adesso ancora no, condividi pure, eccoci. Si vede soltanto la parte… Si vede bene. Però non si vede la parte delle note, si vede soltanto la pagina centrale, vero? Perfetto. Ok, grazie mille. Ok, allora, grazie per l'introduzione, un'introduzione che ovviamente non mi merito, troppo gentile, e grazie per l'opportunità di presentare un po' di informazione sulla computazione quantistica. Questo è un campo che è estremamente interessante, ora mentre sto cercando di muovere la parte di zoom, sto cercando di spostare la mia faccia dalla slide. Dai che un giorno ci saranno dei computer quantici che faranno questo automaticamente col pensiero. Mi ero scritto delle note da guardare mentre presento, ma adesso vedo principalmente la mia faccia davanti agli slide, quindi andrò un po' a braccio. Comunque questo è un campo che sento molto vicino, è un campo in cui ho lavorato per tanti anni, quindi in un modo o nell'altro spero mi perdonerete se improvviserò un po', perché la tecnologia non mi aiuta. E spero che vi intratterrò per un po' in questo dopocena, lì a Milano sono le nove di sera. Ho una ventina di minuti. Abbiamo i nostri ospiti che sono qui, ma li dico, tenete duro che dopo ci sarà una cena, assolutamente. Ah ok, allora sarete impazienti che parlo il prima possibile che così andate a cena. Allora, scherzi a parte, questo è un campo estremamente interessante, è un campo di cui si parla molto, si parla molto sui giornali, si parla molto sui social media, e il fatto è che è una nuova tecnologia e come tutte le nuove tecnologie c'è segnale e c'è rumore, spesso il rumore è più del segnale, nel senso che si sente un po' a parlare della computazione quantistica in tanti modi diversi, è difficile per i non addetti ai lavori capire un po' dov'è il campo, che cosa è il campo, quello che è importante e quello che non è importante. Ora spero che nei prossimi 20 minuti, e poi magari c'è spazio per qualche domanda, vi dia una sensazione di quello che è la computazione quantistica e perché è interessante. Vorrei muovermi sullo slide successivo, vediamo un po'. Ok, allora, prima di tutto vorrei mettere in evidenza una cosa che secondo me è importante, ovvero che i calcutori quantistici sono uno strumento di ricerca. Ok, sono delle macchine, sono dei computer, calcolatori, sono delle macchine che codificano informazione in oggetti microscopici, il cui comportamento è governato dalle leggi di una fisica, che è la fisica della natura a livello fondamentale, che si chiama fisica quantistica, e questi oggetti sono atomi, sono fotoni, per esempio sono componenti degli atomi. Ora qui in questa foto c'è un ingegnere quantistico, un nuovo tipo di professione, infatti un ingegnere quantistico che lavora in uno dei nostri laboratori di Amazon Web Services in California e sta facendo qualcosa a un refrigeratore. Comunque, diciamo il modello mentale del calcolatore che uno ha, di solito è la calcolatrice, quella che si usava a scuola, la calcolatrice si mettono dei numeretti, nello schermo si preme l'uguale e si ottiene il risultato. Questo non è un modello mentale che funziona quando si applica ai calcolatori quantistici, perché queste sono macchine che davvero codificano informazione a livello fondamentale su oggetti microscopici, e visto che le leggi che governano tale mondo microscopico sono diverse dalle leggi che governano il comportamento dei calcolatori al di fuori di quel mondo microscopico, allora ci possiamo aspettare delle cose diverse. Però bisogna sempre pensare a questi calcolatori quantistici come delle macchine per manipolare oggetti come atomi e molecole, per esempio. Quindi, di nuovo, il modello mentale che dobbiamo avere dei calcolatori quantistici è più di uno strumento scientifico che di un calcolatore in sé. E questa è una cosa molto interessante, perché alla fine i calcolatori quantistici ci aiuteranno a portare avanti la scienza in primo luogo, e va detto che, una frase che a me piace molto, la scienza di oggi è la tecnologia di domani, quindi non bisogna mai dimenticarsi che la scienza a livello fondamentale è quello che poi permetterà delle cose in futuro in tecnologia. È bello, profondo, ma anche pratico, perché porta l'idea che effettivamente non bisogna guardare la tecnologia come un qualcosa che ha a che fare con quello che possiamo costruire nell'immediato, ma con qualcosa per la quale dobbiamo avere pazienza e dobbiamo davvero pensare in maniera profonda. Quali sono le applicazioni di queste macchine, dei calcolatori quantistici? Qui ho degli esempi, scusatemi per questo lucido che ha scritto il titolo in italiano, ma il lucido è riciclato da un'altra presentazione, quindi è in inglese, e non l'ho tradotto. Applicazioni, se si parla di computer quantistici come macchine che alla fine sono in grado di guardare questo strato della natura che è a livello fondamentale, allora immediatamente ci vengono in mente applicazioni che hanno a che fare con il simulare la natura a quel livello. Vi faccio un esempio interessante, se oggi volessimo simulare il processo per fare ammoniaca, ammoniaca è fondamentale, si usa in tanti contesti diversi, e per fare ammoniaca oggi servono, se non sbaglio, tra il 2 e il 3% di gas naturale estratto sul pianeta ogni anno. Quindi una quantità di energia spaventosa per produrre ammoniaca sul pianeta ogni anno. Però sappiamo benissimo che se lasciamo fuori dal frigorifero cose da mangiare, a volte il giorno dopo puzzano di ammoniaca. Quindi nella nostra cucina c'è qualche processo che avviene a temperatura ambiente, con pressione normale, che però permette la generazione di ammoniaca. Perché? Perché i batteri fanno qualcosa, fanno un processo. Ecco, se volessimo capire questo processo, volessimo studiarlo e simularlo attraverso un calcolatore, ecco non esiste un calcolatore sul pianeta che sarebbe in grado di farlo. Perché se si prendesse il super computer più veloce che c'è adesso, ecco, tale macchina impiegherebbe probabilmente mille anni, e noi non abbiamo mille anni per stare lì ad aspettare, e soprattutto la corrente, l'energia che servirebbe per far girare questa macchina. Ecco, il computer quantistico codificando informazioni direttamente in oggetti microscopici come atomi, potrebbe in un certo senso copiare le molecole che sono utilizzate nel processo che i batteri usano e simulare probabilmente nel giro di qualche ora il processo che i batteri usano per fare ammoniaca. Quindi saremo in grado di capire come si fa ammoniaca a temperatura ambiente e magari davvero riuscire a risparmiare quel 2-3% di gas naturale estratto ogni anno sul pianeta per fare ammoniaca. Una cosa fantastica, meravigliosa, se ci si pensa, no? Però non è una cosa che ci riporta l'idea di calcolatrice, l'idea di calcolo di computer. È qualcosa di diverso, è qualcosa a che fare con il simulare la natura, il mondo a livello fondamentale. Un altro esempio che la gente fa è il catturare il CO2, fondamentale per l'ambiente. Ecco, questo si può fare potenzialmente attraverso nuovi materiali. Come si scoprono nuovi materiali? È difficile, bisogna andare in laboratorio e lavorare in laboratorio. Forse si possono scoprire nuovi materiali un giorno in silico, ovvero attraverso simulazioni con computers e i computer quantistici sarebbero in grado di permettercelo. Che cosa fanno però le persone oggi? Quello di cui sto parlando è molto nel futuro, perché oggi questo campo è ancora un campo estremamente giovane e i computer quantistici che vengono costruiti sono oggetti estremamente primitivi. Un po' pensiamo ai calcolatori negli anni 50, calcolatori tradizionali negli anni 50, quindi oggetti molto primitivi. Che cosa fanno aziende per esempio oggi? Voglio fare un esempio breve, infatti tre esempi, per esempio Volkswagen, Enel e Fidelity. Stanno esplorando la traiettoria di questo campo per capire quale sarà, se e come questo campo avrà un impatto su quello che loro fanno nel loro business, nella loro ricerca e così via. Però per adesso si sta esplorando la computazione quantistica, si sta cercando di capire quello che la computazione quantistica può fare in futuro. Perché? Perché questo è un lucido che a me piace. Nessuno sa quando i computer quantistici porteranno un vantaggio in applicazione industriale. Perché l'elefante? È un'espressione in inglese. L'elefante nella stanza è qualcosa talmente grosso che però si fa quasi fatica a vedere. E' talmente grosso il fatto che costruire queste macchine è difficilissimo, è difficilissimo articolare applicazione e in un certo senso l'applicazione migliore del computer quantistico oggi è studiare i computer quantistici del futuro. Una frase molto bella che in un certo senso mette in evidenza l'onestà intellettuale che si vuole, che si deve avere quando si parla di un campo nuovo inesplorato a cavallo tra scienza e tecnologia. Ma tornando al computer quantistico come strumento di ricerca, è comunque bello vedere che questa interazione tra idea di computazione e fisica porta davvero a una prospettiva totalmente nuova, un modo nuovo per interpretare i calcolatori. E di nuovo, applicazioni dei calcolatori quantistici sono in un certo senso fantascientifiche ma in un qualche futuro che ancora non sappiamo. Di nuovo, applicazioni, simulare natura, quindi nuovi fertilizzanti magari in agricoltura, nuovi materiali e magari anche scoprire nuove medicine. Perché si possono portare delle cose che si fanno oggi in laboratorio con costi e con tempi estremamente lunghi in silico, quindi studiarle attraverso dei calcolatori. Cosa che non si può fare oggi perché ci vuole troppo tempo, ci vuole troppo lavoro. Ora, ovviamente io lavoro Amazon Web Services, ho un background che è principalmente accademico con un piede nella creazione di un paio di start-up che sono state le prime in questo campo. Però, lavorando Amazon Web Services, c'è un audience qui che magari si chiederà, ok, ma perché AWS o AWS, come si dice in italiano, sta investendo in computazione quantistica? Perché questa persona ci sta parlando di computazione quantistica qui? Ecco, questo è un punto che secondo me è importante chiarire. Serve una prospettiva a lungo termine per la computazione quantistica, serve molta pazienza. E quando io ho cominciato a lavorare a AWS, la prima cosa che ho fatto è stato parlare con un sacco di clienti lì fuori, persone che lavorano in agenzie governative, start-up, grandi aziende, accademici. E la domanda che mi è stata posta spesso è stata, ok, qual è lo stato dell'arte di questo campo? Che cosa è vero, che cosa non è vero? Che cosa devo fare io in questo momento per interagire con il campo? Posso avere un ruolo, devo investire, che cosa posso fare, no? E tutto quello che noi costruiamo qui parte infatti da conversazione con clienti per cercare di capire che cosa può portare valore ai clienti. Abbiamo esperienze in questo in tanti campi diversi, all'informatica che ha a che fare con i robot, satelliti a spazio, bioinformatica o anche microprocessori che costruiamo e quello che sia. Ora, per quanto riguarda le tecnologie quantistiche, che cosa, che cosa, che cosa si può, come si può contribuire, come può AWS contribuire? Ora, noi lavoriamo con tante start-up, con laboratori nazionali di ricerca, come dicevo prima ho parlato con agenzie governative, grandi aziende, un sacco di segmenti diversi, no? Ci sono oggi 6.500 agenzie governative che lavorano con AWS, oltre 9.000 istituzioni accademiche. Ecco, in questo panorama, no? Qui è un lucido abbastanza grossolano con loghi di partner e clienti. In questo contesto, come dicevo, la domanda che viene fatta è come possiamo, che ruolo possiamo avere in questo contesto e ci sono aziende con cui lavoriamo, per esempio JP Morgan Chase o Fidelity, aziende farmaceutiche come Amgen o Enel in Italia. Ecco, queste aziende vogliono sapere qual è lo stato dell'arte, vogliono essere pronte se a un certo punto, in un futuro ancora a determinare, il computer quantistico avrà un impatto sul loro business e quindi abbiamo deciso di fare cose, abbiamo deciso di cominciare tre iniziative in parallelo. La prima iniziativa è un servizio su AWS, è un servizio che permette accesso a computer quantistici oggi, anche se queste macchine sono a livello di prototipo, anche se queste macchine non hanno un impatto nel business, però secondo me è molto importante avere una finestra sulla tecnologia mentre la tecnologia evolve. Perché? Perché da lì fuori qualsiasi persona interessata a capire dove è la tecnologia può farlo, senza dover stare a scandagliare la letteratura scientifica, a vedere quello che viene detto nei social media, ma dire ok, mi voglio sporcare le mani con i computer quantistici, vado lì e vedo che cosa fanno i computer quantistici oggi. E magari capire, sulla base di quello che vedo, se è il caso di investire oppure no. Quindi abbiamo lanciato questo servizio che si chiama Amazon Bracket, che è già in disponibilità generale e che uno può utilizzarlo già oggi anche dal cellulare, dal proprio telefono può accedere a un computer quantistico e operarlo. La seconda iniziativa che abbiamo lanciato è un gruppo di esperti che si chiama Amazon Quantum Solutions Lab, che lavora con clienti in progetti di ricerca. Ovvero, se un cliente vuole cercare di capire se la computazione quantistica può avere un impatto nel loro business e magari non ha le risorse per farlo e vuole un partner per lavorare insieme, questo gruppo di esperti può farlo. E la terza iniziativa è che noi stiamo costruendo computer quantistici in laboratori che sono principalmente presso il campus di un'università che si chiama Caltech, California Institute of Technology, che è fuori da Los Angeles. Perché vogliamo anche noi costruire computer quantistici? Perché secondo me è importante capire quali sono gli ostacoli reali per costruire questa tecnologia e è importante capire come questa tecnologia poi si può integrare in quello che è un'infrastruttura complessa come quella di AWS, che contiene calcolatori di ogni tipo, contiene GPUs, CPUs, database e qualsiasi tipo di apparato informatico immaginabile che deve a un certo punto lavorare insieme a quello che saranno i computer quantistici del futuro. Abbiamo adesso disponibili, infatti qui ho cinque macchine, sono sei macchine, infatti una di queste qui in questo slide è impreciso, non è disponibile, stiamo integrando. Queste sono macchine costruite con tante tecnologie diverse, tecnologie che hanno a che fare con superconduttori, che hanno a che fare con intrappolare atomi con dei laser, che hanno a che fare con la luce stessa, ovvero codificare informazioni in singoli fotoni e spostare questi fotoni dentro fibre ottiche e poi modificarli attraverso delle meccaniche a che fare con l'ottica. Quindi tanti modi diversi per costruire queste macchine, ma ancora allo stato rudimentale, ancora allo stato di ricerca. Però è interessante, queste macchine possono già essere utilizzate oggi attraverso il servizio che abbiamo costruito e che è disponibile. Un punto interessante secondo me è che cosa stanno facendo le persone oggi lì fuori con questa tecnologia così ancora primitiva. Ci sono almeno 30 startup che stanno costruendo su questo servizio che abbiamo lanciato, che cosa? Stanno costruendo altri servizi. Per esempio, qui Q&Co, che adesso non si chiama più Q&Co, questo per dirvi che l'universo delle startup in computazione quantistica è estremamente dinamico al momento. Infatti è stata, questa è un'azienda olandese che si è unita a un'azienda francese che si chiama Pascal, infatti non si chiama più Q&Co, che è semplicemente si chiama Pascal. Che cosa fa Q&Co? Q&Co è interessata a costruire una piattaforma che chiamavano Kubek, che accede a computer quantistici per risolvere dei problemi specifici in chimica. Ecco, questa è una piattaforma costruita interamente su AWS che usa Amazon Bracket per accedere a questi computer che ho menzionato, che ho fatto vedere nell'uscito precedente. Oppure QCware, QCware è una startup a palo alto in California che costruisce un, che fa il design di algoritmi per ottimizzare portafogli in finanza e guarda a machine learning, come si dice, intelligenza meccanica e potenzialmente l'utilizzo futuro dei computer quantistici ha già integrato computer quantistici in questi loro algoritmi che fanno analisi dei portafogli. Così che nel momento in cui uno di questi computer quantistici sarà più potente dei computer tradizionali, allora loro sono già pronti, hanno già l'infrastruttura per poter utilizzare questi computer quantistici. E secondo me è interessante questo. Un altro esempio è quello che ha fatto BMW. Hanno lanciato questa sfida, la sfida della computazione quantistica, un'iniziativa del 2021, conclusa sì, è l'iniziativa gestita da BMW e AWS. Di che cosa consisteva? BMW ha proposto quattro problemi industriali, problemi concreti, pratici, di interesse. Per esempio la simulazione della deformazione di materiali durante la produzione di autovetture o lo studiare dove si possono mettere dei sensori che hanno a che fare con un processo industriale oppure intelligenza artificiale e computazione quantistica per un problema di interesse di BMW. Hanno pubblicato questi problemi e 70 organizzazioni, quindi 70 organizzazioni diverse, startup, gruppi industriali, da 16 nazioni diverse hanno proposto soluzioni per questi quattro problemi attraverso l'uso futuro dei computer quantistici. Di nuovo uso il termine futuro perché voglio mettere in evidenza che ancora siamo agli inizi e ancora c'è tantissimo lavoro da fare prima che i computer quantistici abbiano un impatto nel business. Ma questo è stato un esperimento secondo me interessantissimo. Vincitori tra l'altro di questo challenge ci sono stati QCware, la startup come ho menzionato prima, Q&Co come ho menzionato prima, più OneCubit e Accenture, che è un'azienda ovviamente grande. Dicevo che questo è interessantissimo perché secondo me è un modo per creare un'interfaccia tra quello che è la ricerca e tra quello che è l'industria e dare un'opportunità per vedere quello che è effettivamente reale in computazione quantistica e per cercare di capire come l'industria può relazionarsi al futuro di questo campo. E vorrei presentare un ultimo lucido, prima di aprire a qualche domanda, se c'è ancora tempo, è l'ultima pagina della mia presentazione. È una frase di Charlie Bennett, Charlie Bennett è un veterano della computazione quantistica, una persona che ha lavorato in questo campo fino dall'inizio e è stata una delle persone che ha davvero spinto l'idea dell'interazione tra fisica e informatica già dalla metà degli anni 70 e questa è una frase secondo me molto bella con cui mi piacerebbe chiudere la presentazione. Il più grosso risultato, il maggior risultato del nostro campo, ovvero la computazione quantistica, non sarà accelerare la computazione, come dicevo prima, computer quantistici permettranno di fare delle cose che non possiamo fare con altri calcolatori per dei problemi speciali, ma sarà aiutare le persone, la gente, a capire che il mondo è quantistico, ovvero che la realtà fondamentale è quantistica e questo di nuovo è una prospettiva scientifica, una prospettiva lontana, anni luce da quello che è l'industria, da quello che sarebbe accelerare innovazione o cercare di spingere nuove idee che possono avere un impatto societario, però di nuovo la scienza di oggi è la tecnologia di domani e la computazione quantistica è davvero un campo che racchiude in sé questa idea. Perché? Perché permette di portare due campi che sembrano a priori estremamente lontani tra loro come l'informatica e la fisica sotto la stessa, nello stesso contesto e ci può essere un impatto in entrambi le direzioni, ovvero la fisica che cambia il modo di fare computazione, ma dall'altro lato anche l'informatica che cambia il nostro modo di fare fisica e questo potrebbe portare a scoperte che non possiamo immaginare oggi e magari scoperte che sono ben oltre quello che può essere effettivamente la fantascienza. Questa è la mia presentazione e vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Grazie Simone, purtroppo siamo andati lunghi, non abbiamo tempo per le domande, ma ti invieremo le domande che sono tante che abbiamo ricevuto all'indirizzo quantum.fullersclad.com per mail in modo che potrai rispondere a tutti coloro che sono interessati. La domanda che ti avrei fatto io è quanto tempo ci manca tra quegli oggetti di poterli avere sulla mia scrivania come un tradizionale PC. Secondo me è ancora un po' di tempo, più che altro ci manca il rifrigiratore, secondo me in questo momento. Senti, se mi dai un attimo solo rispondo alla tua domanda. Secondo me è una domanda interessantissima. È importante ricordare che i computer quantistici non rimpiazzeranno il computer che abbiamo sulla scrivania. Saranno delle macchine che risolveranno dei problemi molto molto specifici che oggi sono risolti da dei super computer che devono essere dentro qualche data center estremamente speciale e con un ambiente molto molto specifico. Quindi i laptop rimarranno laptop per ancora molto tempo e forse per sempre. Grazie Simone, grazie mille e buona giornata. Grazie a tutti noi. Ciao. Ciao.